Una situazione assolutamente da attenzionare e noi lo facciamo tra l'altro oramai da oltre un anno ma registriamo l'immobilismo del governo Schifani e del governo Meloni e da questo punto di vista è assolutamente inaccettabile, incomprensibile come il governo Meloni non abbia chiesto l'attivazione a Bruxelles del Fondo Europeo di Solidarietà che è un fondo creato ad hoc per dare sostegno agli stati dell'Unione Europea nel qual cosa si verifichano situazioni eccezionali e la situazione della società in Sicilia è in una situazione assolutamente eccezionale che è da controllare sotto tutti i punti di vista anche perché abbiamo gli invasi che, lo dicevi assolutamente bene poc'anzi, non riescono a riapprovvigionarsi di acqua perché piove pochissimo, non piove oramai da oltre un anno e allora l'impegno che noi chiediamo da parte del governo nazionale e del governo regionale è di mettere in campo tutte le risorse e tutti gli strumenti per fare fronte a quello che è un problema un problema non solamente di tipo climatico, lo stiamo vedendo con quello che purtroppo sono le temperature eccessive che di anno in anno aumentano, ma anche un problema sociale ed economico economico per gli agricoltori che non raccolgono più nulla per la zootecnia che soffre perché non hanno da dare da bere agli animali ma anche un problema sociale, lo vediamo con il razionamento idrico che oramai è in realtà, è una realtà in tanti comuni della nostra Sicilia e se dovesse continuare così senza l'adeguamento delle nostre condotte idriche non potrà fare altro che peggiorarsi e diventare purtroppo una triste realtà anche nella provincia di Palermo in questo e per questo l'impegno del Partito Democratico che chiede il massimo sostegno a tutti i livelli istituzionali